Chiesa è gremita nella mattinata di oggi lunedì 11 giugno per l'ultimo addio a Fausto Guccioni, il 48enne di Cucurano che ha perso la vita in un incidente stradale venerdì mattina in via Falcinetto vicino al Civico 19. Fausto ci ha fatto due regali, ha detto Don Vincenzo Solazzi, cugino della madre di Fausto, che insieme a Don Giuseppe Cavoli della parrocchia di Bellocchi ha celebrato la funzione nella chiesa di San Sebastiano. Il primo è l'insegnamento del valore e della dignità della vita umana, che per un incidente o per un malore ci può essere tolta. Il secondo è che dobbiamo trasformare il dolore in amore, solo questo sentimento ci può dare la certezza del domani. A ricordare a Guccioni anche il vicepresidente Federcacciafano Gianfranco Fabri. Fausto era un uomo gentile, affabile, umile, preciso, attento, sempre a disposizione di tutti, ha ricordato al termine della messa. La salma, salutata all'uscita della chiesa da un applauso, è stata tumulata nel cimitero di Rosciano. Grazie a tutti.